Buon piatto oggi ho voglia di carbonare quindi me la preparo vediamo la seconda ecco qua sentite che rumore piacevole e che odorino intanto bisogna sbattere per bene il tuorlo la pancetta potete capire che profumo mi raccomando non fate l'errore di spezzarvi il pecorino romano a mantecarlax con il resto del ma lo sentite questo rumore versate il pecorino a scaglie e vediamo l'altra bella mancherate con il pepe l'importante è che si senta l'odore perché passaggio finale quello che renderà il piatto speciale ecco il tuorlo pensatelo bene guardate che colore ed ecco il piatto finito questo lo dedico veramente a tutte le donne mettiamo un'altra piccola sponzatina di pecorino e adesso passiamo all'assaggio come vediamo e da gustav magnando cantando questo è il mio orgoglio e la salute per tutte le donne grazie a tutti